La giornata di domani, mercoledì 15 febbraio, è una delle più attese ad Arezzo perché si celebra la Madonna del Conforto. La giornata sarà aperta alle 6 dalle lodi mattutine dalla Santa Messa. Alle 10.30 a Santa Messa Pontificale, presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, Vescovo Metropolita di Siena, Colle Valdelsa, Montalcino e Vescovo di Montepulciano, Chiusi e Pienza. Poi le messe e le benedizioni si susseguiranno per l'intera giornata. Ricordiamo alle 18 la Santa Messa, presieduta dal Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, e alle 21.30 un altro momento molto atteso, ovvero quello dell'omaggio della giostra del Saracino alla Madonna del Conforto. Le sante messe si chiuderanno con l'ultima alle 23.00. Dunque una celebrazione che inizierà alle prime luci di mercoledì 15 febbraio e si chiuderà la sera quando ormai si volge verso il 16.00. Sono attesi tantissimi fedeli come da tradizione con tutti i negozi e le attività commerciali che offrono fiori alla Madonna del Conforto perché da sempre è un simbolo non solo religioso ma anche di tradizione per quanto riguarda non solo Arezzo ma l'intera diocesi.